Mancano pochi minuti all'inizio del festival, è un festival con degli ascolti molto positivi cari amici di Radio 5.9 ma non c'è polemica, qui a Sanremo continuamente quando si gira nei bar si parla di un Sanremo un po' diverso, non c'è la polemica, non c'è la polemica di Celentà o di Crozza ci manca qualcosa, ecco amici volevo farvi vedere cosa succede qualche minuto prima dell'inizio del festival